Tre partiti sono in testa ai sondaggi da maggio nella corsa per il Bundestag, il Parlamento federale tedesco. Il candidato cristiano-democratico Laschet dichiara di puntare su strumenti efficienti di economia di mercato per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi. A livello sociale intende promuovere la costruzione di più di un milione e mezzo di nuove case in Germania entro il 2025. La coalizione di centro ha inoltre promesso di abolire la sovrattassa di solidarietà, una mossa che beneficerà soprattutto i redditi più alti. La principale differenza tra SPD e CDU è il ruolo dello Stato. Il candidato dei socialisti, nonché ministro delle finanze Olaf Scholz, non vuole ulteriori vincoli all'immigrazione, sostiene l'introduzione di una pensione minima e di un salario minimo di 12 euro all'ora. Scholz ha promesso di tornare al più presto alle regole di bilancio sancite dall'Unione Europea, ma i conservatori lo hanno accusato di voler prolungare il meccanismo di solidarietà e trasformare l'Unione in un'Europa del debito. Per i Verdi, l'accesso a Internet e la digitalizzazione sono strettamente legati ai diritti e alla partecipazione democratica. Il loro programma mette l'accento sullo sviluppo delle infrastrutture finanziate attraverso il debito. La candidata, Nalena Baerbock, chiede un nuovo inizio e un cambio di passo in politica, con l'abbandono del carbone come fonte di elettricità e l'esclusivo via libera alla circolazione per le auto a zero emissioni. Sembra chiaro che SPD o CDU saranno a capo del futuro governo, ma i sondaggi mostrano che avranno bisogno di altri due partner. Le possibili combinazioni che prendono il nome dal colore dei partiti coinvolti sono la coalizione Kenya, CDU, SPD e Verdi, la coalizione tedesca, CDU, SPD e Liberali o la coalizione del semaforo. L'ultima soluzione sembra la più probabile con i liberali, che hanno fatto mostra di un certo pragmatismo insieme a socialisti e Verdi. Ago della bilancia dunque il partito di Christian Lindner, che molti vedono già come il prossimo ministro delle finanze.